della Confindustria e direi attendendo Saragat che al principio dell'anno si era scisso da paresocialista e che alla fine dell'anno sarebbe entrato nella combinazione centrista, era il centrismo la formula, la formula su cui si costruì l'asse politico italiano, in questo senso trovo molto importante aver parlato di Portella, perché aver studiato Portella, aver proposto Portella come dame, perché Portella è veramente la sollecitazione per così dire alla democrazia cristiana di fare da sé, essa come stato è vero la politica antiparaia e anticontadina, ma per fare la politica antiparaia e anticontadina essa deve farla avendo una base politica abbastanza larga, il centrismo, la simbola del centrismo voleva dire violenza anticontadina, violenza antiparaia e capacità di avere socialdeocratici liberali in una certa combinazione. Il punto secondo me più grave, più importante è questo, cioè che su cui credo, non so, spero che parlerà a favore, che ne può parlare molto più, molto più seriamente di quello che posso parlare io. La forma dello Stato italiano era stata risolta con il referendum istituzionale del 2 giugno 1946, cioè era messa alla Repubblica al posto della monarchia, però la sostanza, la natura dello Stato italiano non cambiò, la Costituzione materiale, quella che si chiama Costituzione materiale, cioè l'effettivo rapporto, struttura dei rapporti di potere all'interno delle istituzioni, non cambiò, anche se era cambiato il suo versi, naturalmente non voglio sottovalutare l'importanza della partenza del re, perché la partenza del re significò la figlia dell'ipoteca dell'esercito, che era stato poi sconfitto dalla guerra e che usciva a pezzi, ma comunque il quadro istituzionale rimase praticamente immutato. E direi che nella Costituzione entrarono i principi molto importanti, il diritto al lavoro, la partecipazione dei lavoratori alla gestione delle imprese, forme di controllo antimonopolistico contro gli abusi, eccetera, ma quello che colpisce è che tutte le proposte di rinnovamento che la Carta Costituzionale è proprio nel 1947, l'anno della Carta Costituzionale è fatta nel 1947, non prevedono alcuno strumento operativo, cioè tutte le cose vengono dette e enunciate, ma non c'è nessuna, e notate che in quel momento per esempio a prova di partecipazione c'erano ancora i consigli di gestione, ma non sono vengono nominati, perché deve essere affermato il principio, ma non la pratica, invece entra per volontà dei naudi della democrazia cristiana un elemento operativo decisivo, che proprio nel momento in cui tu affermi il diritto al lavoro, entra l'articolo 81 della Costituzione, che se non sbaglio nel suo terzo comma, stabilisce che nessuna spesa può essere fatta se non è assistita da una nuova entrata, che voleva dire il rifiuto costituzionale della Costituzione italiana di qualunque spesa in deficit, quindi il criterio fondamentale dell'economia italiana, secondo la Carta Costituzionale, sì, è che bisogna contemperare l'interesse privato con l'interesse pubblico, ma poi alla fine della Costituzione si dice che quello che conta è la parità dei bilanci, il pareggio dei bilanci, non è il bisogno di dar lavoro, no, se anche tu devi dar lavoro non puoi spendere se non hai la parità di bilancio, la parità di bilancio è l'elemento sacrale della Costituzione del campo economico, nonostante tutti gli enunciati, e qui la democrazia cristiana ha giocato e si è rinunciato praticamente a tutte le istanze del cattolicesimo sociale, nella Costituzione, per accettare praticamente, diciamo così, un quadro liberista e liberale, però in cambio ha avuto la direzione dello Stato, la direzione del nuovo blocco politico, questa è una grossa operazione che De Gasperi e i suoi amici hanno fatto proprio nell'anno 1947, e qui sorge il problema, sorge il problema anche dell'autonomia, sulla quale io mi limito a dire un brevissimo riferimento per il modo come l'autonomia fu affrontata allora, in modo particolare dei partiti di sinistra, è vero, cioè una volta che si ammette che lo Stato più o meno rimane come prima, con l'aggiunta nel sistema politico dei partiti di massa che diventano i veri intermediari, i veri e necessari intermediari fra lo Stato e le masse, nel momento in cui si ammette questo, con lo Stato più o meno, è quello di prima, più i partiti democratici, in cui la democrazia progressiva, la nuova democrazia è in sostanza l'aggiunta allo Stato della democrazia, dei partiti democratici, della democrazia di partito, a questo punto anche il problema dell'autogoverno, cioè di una liberazione popolare dalle strutture statali oppressive, non compare, i problemi vengono visti soltanto nei termini classici di più o meno largo decentramento, cioè nei rapporti fra Stato e regione, fra Stato e provincia, fra Stato e comune, non come rapporto fra popolo e classe dirigente, cioè in un rapporto di classe, si rifiuta categoricamente l'esame dell'autonomia come problema di classe, lo si vede soltanto come un problema di rapporti fra corpi, corpi centrali e corpi periferici e sorge allora poi il problema del riparazionista, è vero? Cioè il problema di dire, tu sei... E io vorrei ricordare che Gramsci, fin dal 1923, aveva parlato di antagonismo territoriale e quindi aveva messo accanto l'antagonismo di classe, l'antagonismo territoriale, però compenetrato l'antagonismo di classe. Quando Gramsci aveva parlato di antagonismo territoriale e quindi aveva posto in un certo modo il problema delle alleanze, aveva parlato in termini molto espliciti, di alleanze con i contadini poveri e con gli intellettuali subalterni. Cioè praticamente l'autonomia era concepita, cioè l'antagonismo territoriale, quindi i processi di liberazione di carattere territoriale che Gramsci vedeva in modo specifico per le grandi isole, ma in modo più generale per tutto il mezzogiorno, per tutto il mezzogiorno, li vedeva tutti in tessuti e compenetrati di un contenuto sociale, cioè l'alleanza propiettoriato e contadini poveri e intellettuali subalterni. Le sinistre dopo la guerra questo non l'hanno visto. Hanno visto limitatamente la Sicilia e la Sardegna concepite come eccezioni, è vero, il problema dell'autonomia come un collegamento, diciamo così, come un antagonismo territoriale di tutta la popolazione del suo insieme, quindi in una concezione immediatamente, immediatamente interclassista. interclassista. E quindi l'autonomismo, soprattutto in Sicilia, ma anche in Sardegna, dove tendenze separatistiche erano forti, comunque dove vi era una profonda, radicata tradizione di autonomismo democratico, che era quella di Emilio Lusso del Partito Sardista, l'autonomia finì per essere una specie di mediazione fra centralismo e separatismo, una specie di opportuna presa in considerazione delle condizioni eccezionali di due isole e, guardate, non soltanto venne meno l'elemento, per così dire, di rottura del centralismo statale, nemmeno che era importante per tutto il Mezzogiorno, ma venne meno anche, secondo me, la specificità dell'analisi delle condizioni delle grandi isole. Perché nel momento in cui si profilava come un'alleanza di tutte le popolazioni e ci fu dal centro dei partiti operai una forza sollecitazione verso delle resistenze periferiche nelle isole e contro questa concezione verso delle resistenze, diciamo, classiste che c'erano nelle isole, e in questo momento secondo me era perduta anche la specificità. Non so, ieri ho sentito questa domanda. Perché i partiti operai e la classe operai non hanno fatto un'alleanza con i piccoli industriali o con i medi industriali siciliani nel 1946-47? Ma guardate, il discorso che è stato fatto qui mi pare molto sensatamente, in nessun modo come la democrazia costitana concepiva l'autonomia siciliana, e il discorso potrebbe farsi anche per i sardi, come un'autonomia al ribasso, per così dire. Cioè l'operazione dell'applicazione dei decreti in gullo sui reparti, è vero, attraverso il decreto al disio e le condizioni particolari al ribasso fatte nell'isola, valgono anche per l'industria. Gli industriali siciliani, i potenziali alleati, diciamo così, della classe operaia, litigavano con la confidusta, certo, ma perché litigavano con la confidusta? Perché volevano salari ancora più bassi, volevano i cosiddetti temperamenti, questa gentile parola che voleva dire che i salari in sicilia dovevano essere più bassi che nel continente. Ecco, tu potevi benissimo fare un'alleanza con loro, se gli davi più temperamenti ancora, ma a questo punto non la facevi più l'alleanza, perché chi avevi che te la faceva? Gli operai ti abbandonavano, i contagiati ti abbandonavano. Ecco, allora ci sono alcune condizioni materiali, se tu vuoi fare un'alleanza devi farla come classe, non puoi farla soltanto per andare a dare soddisfazione al tuo avversario. Quello, pensavo la sola, la sicce industria poi, prima, l'industria siciliana, lottarono e polemizzarono con costa perché era troppo buono con gli operai, questa era la loro caratterizzazione. Come fai? Io vorrei che veramente questo discorso delle occasioni mancate fosse un pochino più realistico. Adesso, con tutte le occasioni mancate, non è vero, si poteva fare l'alleanza qui ma che era un cattivone che impediva che si facesse, c'erano i massimalisti qui, i massimalisti là, è vero, e adesso anche sulla storia della rottura dell'unità democratica, c'erano la classe operaria troppo insubordinate e di Gasperi non poteva più collaborare. Questo è un discorso che viene avanti con molta forza. Ma non sono, e io vorrei che questo discorso di occasione mancata non venisse, non venisse fatto con tante mancanze di realismo, cioè senza tener conto che cosa voleva questa gente. Se io devo fare l'alleanza qui, devo sapere cosa vogliono gli industriali. Se io so che loro litigano con gli industriali continentali, devo sapere su che cosa litigano. Se io posso fare un'alleanza su quello che essi litigano, io vorrei un po' più di realismo anche nel processo, nel procedimento ulteriore di questo tipo di ricerca. Sul problema dell'autonomia ancora vorrei ricordare che, non so, io ricordo anche personalmente il discorso che Togliati, che fu un bel discorso, fece la Costituente nel marzo del 1947 come quadro generale, è vero, della politica comunista sulla Costituzione. Sul problema dell'autonomia in generale, e gli ammetteva l'eccezione siciliana e sarda, il problema dell'autonomia in generale gli disse, noi non possiamo ammettere, no? Un'autonomia che porti al governo dell'altifondo in Sicilia e alle fattorie collettivizzate in Emilia e Romagna. Ecco, era un discorso molto efficace in nome di un'unità che prevedeva, per così dire, l'unità del proletariato, perché presupponeva l'unità del proletariato, ecco, e non una indistinta unità popolare. Però un mese dopo, andando in Sardegna, Togliati, mi pare, quando è stato dell'aprile del 1947, all'assemblea dei quadri sardi, Togliati attaccò con violenza ogni forma di autonomismo classista, cioè ogni forma di autonomismo legata, per così dire, ad alleanze che unificassero attorno alla classe operaia tutti gli strati poveri della popolazione, dall'artigianato urbano all'artigianato rurale. E quindi esaltò una forma di autonomia che doveva interessare tutti, poveri e ricchi, tutti oppressi dallo Stato più o meno in modo uguale. Ecco, e questa linea ebbe molte resistenze nell'applicazione di base, perché nell'applicazione di base molto spesso l'autonomia divenne veramente lotta contadina, divenne veramente contestazione del potere degli agrari, divenne veramente lotta per un nuovo modo di esercitare il potere, è vero, ma nella linea generale questo mancò e questo a mio giudizio rappresenta uno degli elementi di debolezza della Costituzione e in generale del rapporto politico che si determinò nel 1947. Cioè si affermavano dei principi, ma questi principi non si davano loro delle gambe di carattere sociale. Parlando alla prima sottocommissione della Costituzione Togliati aveva definito la fase in un modo che vale la pena di ricordare, la definito la fase come un periodo transitorio di lotta per un regime economico di coesistenza di differenti forme economiche che tendono a soverchiarsi le une con le altre. Un giudizio che riconosceva implicitamente dietro le forme economiche dei soggetti sociali, cioè le classi, ma non indicava nessun disegno per la linea di soverchiare, per cui le posizioni di attesa delle sinistre, in qualche modo con cui si è dall'esterno non riconosceva nel lotto operai la possibilità di una transizione al socialismo, si incontrava con la linea democristiana di non mettere in moto nessun processo reale. Il 1947 fu un anno conclusivo della vicenda, io voglio ricordare brevissimamente gli episodi politici più significativi, la scissione socialista a principio dell'anno, il viaggio di De Gasperi in America, la crisi di governo nel mese di gennaio e sul ritorno dall'America, la conclusione del Trattato di Pace, l'inclusione del marzo del concordato dentro la Costituzione, le elezioni siciliane dell'aprile, le quali hanno dato un enorme, come dire, hanno aperto uno spiraglio sul potenziale popolare proletario non solo della Sicilia, ma di tutto il mezzogiorno e quindi il potenziale di rinnovamento che esisteva, Portello della Girestra che fu una risposta specifica all'elezione del 20 aprile, il piano Marshall su piano internazionale, la rottura dell'unità democratica, lo scatenamento della reazione scellbiana nei mesi di giugno, luglio, agosto, contro i contadini e contro gli operai, la mancata reazione della sinistra nell'estate del 1947, la nascita del Cominform, la lotta per la pace che conseguela alla nascita del Cominform, la deflazione rigida, scatenata che attacca i livelli di occupazione, la crisi dell'occupazione nell'autunno, le grandi agitazioni operai e contadine dell'autunno del 1947, quelle bracciantine dell'estate e quelle operai della fine dell'anno, il ridisciplinamento di queste lotte in vista delle elezioni del 18 aprile e in sostanza la formazione del fronte popolare in una funzione prevalentemente elettorale, ho fatto una specie di carrellata sulle vicende del 1947 che rappresenta per così dire un anno conclusivo di tutta una vicenda, oltre che evidentemente la Costituzione di cui ho parlato prima, la conclusione della Costituzione della Repubblica di cui ho parlato prima. Brevissimi accendi, la scissione socialista avvenne al principio dell'anno, io credo che se ne parla troppo poco, fu una cosa importante, fu importante per due ragioni, primo perché offrì a De Gasperi nel medio termine un'alternativa all'alleanza di sinistra, secondo perché nonostante tutto, nonostante che il partito socialista abbia avuto allora con la scissione un calo netto di influenza politica e soprattutto elettorale, però rimase confermato in qualche modo che il partito socialista era un partito di classe, che non diventava un partito socialdemocratico, cioè rimase confermato con la tradizione che sia pure per varie ragioni era stata affermata nel 1914 e 15, quando il partito socialista unico, oltre al partito socialdemocratico russo, che però non aveva una rappresentanza parlamentare, non votò poi i crediti di guerra. Allora questo carattere diciamo così classista del partito socialista va ricordato perché rappresenta un elemento in qualche modo dinamico della situazione, che ha consentito alla situazione di non chiudersi se anche soffriva la scissione a De Gasperi e a De Leani. Io sono convinto, e so qui di dire delle cose probabilmente abbastanza eretiche, che la scissione era figlia del governo tripartito, era figlia dell'alleanza tripartita. Perché era figlia dell'alleanza tripartita la scissione socialista? Perché l'alleanza tripartita affidava formalmente alla democrazia cristiana la rappresentanza del ceto medio, cioè l'alleanza sociale di proletariato del ceto medio era configurata a livello politico come alleanza fra partito comunista socialista e democrazia cristiana. La democrazia cristiana era il partito politico del ceto medio. Così tutta quella parte socialista che per regioni tradizionali e politiche vere aveva o poteva avere ebbe nel 1945-1946 un'influenza effettiva nel ceto medio, si vedeva praticamente delegata nella rappresentanza del ceto medio alla democrazia cristiana, per cui rimasi in qualche modo abbastanza svuotato. Lo stesso avvenne con il partito d'azione. Il partito d'azione che era un partito di borghesia progressista, di piccola borghesia progressista, cessava ogni regione di esistere nel momento in cui il ceto medio era delegato alla democrazia cristiana, e mi ricordo che io ero nel partito d'azione, mi ricordo che Togliatti ci diceva, ci diceva, ma voi siete stupidi, voi cosa mettete a parlare di socialismo, voi dovete rappresentare i ceti medi, i ceti medi progressisti, ma nel momento in cui Togliatti ci diceva questo, e da un certo punto di vista avrebbe avuto ragione, lui riconosceva in modo molto più sostanziale la democrazia cristiana della freddanza, voglio dire, sia Saragat che in misura inferiore, perdonazione, ma soprattutto Saragat, i socialisti moderati, avevano un ruolo decisivo in un'unità di sinistra, perché in uno schieramento unitario di sinistra, nevelo dopo la fine della guerra, loro avrebbero potuto, o nella lotta per uno schieramento unitario di sinistra e per un governo di sinistra, i socialdemocrati, cioè i socialisti moderati, avrebbero avuto un'influenza determinante proprio come garanzia, nevelo di moderazione, sia interna che internazionale, guardate Nenni nell'ultima intervista che ha fatto a Tamburrano, dice con molta onestà che quando Saragat ha fatto l'ascisione, è stato un cretino, perché lui poteva conquistare la maggioranza del partito, no? Dice questo, dice poteva avere la maggioranza del partito, ma questa maggioranza non era una maggioranza necessariamente anticomunista, era una maggioranza la quale poteva essere, nevelo, per così dire il perno di uno schieramento e la garanzia di uno schieramento. Il tripartito affinando tutta la democrazia cristiana che poi diventava un partito atlantico, offreva alla destra socialista una stradaria occasione di dire diventiamo importanti, diventiamo preziosi, l'unico modo di diventare importanti e preziosi è di andare con la democrazia cristiana. Questo fu secondo me il significato. Il secondo punto che volevo ricordare è la questione dell'articolo 7 della Costituzione. L'articolo 7 della Costituzione non fu solo una tattica, è vero che nell'aprile del 1947 un articolo di Rodano su Rinascita parla della necessità di impedire minacce improvvise di grave svolgi, ricordo il discorso di Gasperi, Gasperi minacciò di riaprire la crisi istituzionale, la crisi, il problema istituzionale, cioè la monarchia e la repubblica, se l'articolo 7 non entrava nella Costituzione. Però questa crisi c'era, era pericolosa, però il partito comunista non fece soltanto un'operazione tattica, fece un'operazione più profonda che viene teorizzata anche in questo articolo di Rodano su Rinascita che è molto importante e gli dice in sostanza che il partito comunista è un partito democratico perché è strumento di democrazia del popolo e il popolo vuole l'unità dei grandi partiti e dice testualmente bisogna accettare i patti per quel che di religioso essi rappresentano e quindi per quel che stanno veramente a cuore delle masse cattoliche. Questo rispetto del partito comunista nel marzo del 1947, che venne però all'ultimo momento dopo una lunga periodo di opposizione, aveva come referente non più la democrazia cristiana ma la chiesa cattolica romana, forse è troppo lungo, io parlo troppo lungo? Posso continuare? Aveva come referente la chiesa cattolica romana, la chiesa cattolica romana e, mamma mia, aveva come referente la chiesa cattolica romana e guardate, cioè aveva come referente l'organizzazione, un'organizzazione politica perché era politica, non solo religiosa, la quale aveva come obiettivo determinato quello della rottura dell'unità democratica, cioè di cacciare i comunisti socialisti dal governo e il voto fu indubbiamente un rafforzamento. Noi avemmo allora, io non lo votavo dall'articolo 7, ma ci furono delle illusioni molto diffuse che il voto dall'articolo 7 potesse consolidare l'unità democratica. Guardate, 40 giorni dopo l'operazione del tripartito era morto, 40 giorni dopo, il voto dall'articolo 7 fu il 25 marzo e la crisi fu aperta il 30 aprile, il 5 maggio fu aperta. Voi capite, cioè il regalo dato alla chiesa cattolica le ha dato l'immediata forza di rompere, di esercitare sulla democrazia cristiana l'ultima pressione per rompere la schia. Ecco, sulla crisi del governo di gennaio è abbastanza importante ricordare la curiosa insensibilità che le sinistre hanno avuto. In gennaio De Gasperi va in America, torna dall'America, io non credo che il governo americano abbia esercitato una pressione molto forte, perché io sono d'accordo con Gallerano che l'identificazione del sistema americano con il sistema mondiale era qualcosa di più che una pura e semplice pressione esterna, era per così dire una identità di campo all'interno della quale vi erano delle articolazioni delle possibilità di resistenza e di movimento, io sono molto convinto di questo. Non credo che De Gasperi sia tornato con l'idea, poi è tornato con l'idea di diminuire i comunisti, ha cacciato Scocci Maro dal mistero delle finanze, è vero? Ecco, e ha rinvenzionato i socialisti e i comunisti nel governo. Il commento del partito ufficiale e dei socialisti fu sorprendentemente ingenuo, perché io credo sincero, non credo che mentissero, non credo che c'essero queste cose per ingannare i compagni. Loro dicevano che era una crisi fatta per scherzo, togliati scrive testualmente, è una crisi per burla, non c'è nessuna ragione, dice ma come? Cosa avete cambiato? Avete cambiato niente? No, ma come hanno cambiato niente? Scocci Maro rappresentava l'imposta patrimoniale, rappresentava il cambio della moneta, rappresentava la volontà di rinnovamento, non aveva nessuna possibilità di farlo. Io ricordo, era completamente paralizzato, completamente chiuso, ma simbolicamente il ministero delle finanze... Cosa ha significato la crisi di gennaio? Ha significato la garanzia data al capitalismo italiano, ha significato di dire, questa è la via che abbiamo scelto. Due settimane dopo la formazione del governo, in sede di discussione sul governo del gennaio, il democristiano Scocca disse apertamente alla nostra linea, è la linea dei naudi e la illustrò in tutti i suoi pezzi. Era la scelta di campo, come si faceva a ignorare questo elemento? Cioè che la crisi di gennaio era già veramente, non solo la rottura dell'alleanza, invece fu presentata come una vittoria testualmente, disse, disse, è una vittoria della sinistra perché ha impedito che ci cacciassero fuori, ci cacciassero fuori. Il nuovo governo abolì il prezzo politico del pane, il nuovo governo non diede soddisfazione ai ferrovieri, il nuovo governo aumentò subito le tariffe dei servizi pubblici, è vero, e si creò nel partito comunista e pressocialista una forte tensione interna. In una circolare interna dell'aprile il partito comunista alle sue organizzazioni dice, è vero, abbiamo abolito il prezzo politico del pane, ma state attenti, questo era il prezzo per poter stare al governo, questo nell'aprile, un mese dopo il governo era finito. Cioè in altri termini quello che colpisce nelle sinistre di allora era il fatto che le sinistre di allora facciano prevalere in modo tale l'unità rispetto ai suoi contenuti e pensavano che fosse possibile sacrificare i contenuti e salvare l'unità, mentre nel momento in cui tu sacrifici i contenuti tu liquidi l'unità. Questa fu la lezione per così dire, la lezione in qualche modo del 1947. Quando Scoccimarro fu licenziato dal governo nel gennaio-febbraio il partito lo ringraziò pubblicamente, ma non lo ringraziò per aver tentato di fare senza riuscirvi le operazioni di modifica del modello di sviluppo italiano, lo ringraziò per avere pareggiato il bilancio, l'ombra di Quintino Sella ha alleggiato continuamente su tutta la vita politica italiana, fu questo il ringraziamento che si ricevete, hai pareggiato il bilancio, era l'ideologia borghese, proprio nella sua forma più conservatrice, dominava questo tipo di attività. Guardate che quando io parlo di questo non è una critica esterna che faccio, io ero con loro e avevo le stesse illusioni, voglio dire che questo non è che il condizionamento culturale non era un tradimento soggettivo, eravamo così perché pensavamo così, perché questo era il nostro modo di pensare allora, il nostro modo di pensare. Un po' in fretta vorrei dire che vorrei arrivare alla crisi, alla crisi di maggio, la crisi di maggio e la formazione del nuovo governo De Gasperi in auli, essa fu anticipata la crisi da una lettera che è stata pubblicata recentemente di Costa a De Gasperi del 14 aprile, che è una straordinaria nitidezza perché De Gasperi spiega tutto, che bisogna fare il mercato aperto, tra l'altro l'ideologia era questa, dice qui si bisogna scegliere o il mercato o la politica, diceva Costa, no? O il mercato o la politica, in realtà quello che gli chiamava mercato era una politica, la politica del capitale, no? E quello che gli chiamava politica era invece il tentativo di tener conto dei bisogni sociali, di un diverso meccanismo di sviluppo che tenesse conto di certe esigenze o di occupazioni o di bisogni sociali. Quando si arriva alla rottura, dico subito inutile il trascio, anche tutti i tentativi fatti dalle sinistre per impedire la rottura, le proposte fatte proprio verso il cosiddetto per quarto partito, quello che De Gasperi chiamava il quarto partito, che era il partito del capitale, è vero, le proposte fatte di collaborazione in ogni genere, quando si arrivò alla rottura, la cosa che colpisce è il fatto che la risposta delle sinistre fu oltremodo fianca, cioè essi dicono giustamente che non c'erano contrasti programmatici insuperabili, si dice che il nuovo governo non serve a salvare la lira, come se l'unico problema fosse salvare la lira e non tutte le norme, drammatici problemi che si citavano nella società, si conferma che si è tutti dentro alla lotta con l'inflazione, le critiche in audio sono singolarissime, in audio è criticato dai socialisti e dai comunisti solo per ragioni tecniche, si dice che manca di energia, che non ha capacità di direttive, togliate dal stato suo scolare come sono stato io all'Università di Torino e si ricordava questo buon uomo che veramente non aveva nessuna apparenza di essere capace di governare, si diceva che si era fatto rubare il cliché per il cambio della moneta, l'unica critica politica sia che era monarchico, ma sulla politica della deflazione non si disse nulla, ancora nell'estate, nell'autunno del 1947 noi, dico noi, abbiamo considerato l'inflazione come il nemico numero uno e non vedevamo che le fabbriche stavano chiudendo, è vero la riconversione industriale, la ristrutturazione avveniva col processo della deflazione che la compi-industria aveva accettato come momento di unificazione del fronte a un certo momento per dare un colpo mortale alla classe operaia nella società e non soltanto per espellerla dal governo, è vero, c'è sempre questa simmetria quando tu fai un atto politico, poi fai anche un atto economico-sociale, in tutto altro campo nel 1926 le leggi discezionali furono accompagnate dalla politica di deflazione, le due cose vanno insieme, tu colpisci a livello politico le forze operai e devi colpirle anche a livello economico, tutto questo non, ecco, l'unica cosa che si disse è che in qualche modo bisognava fare un appello alle elezioni, alle prossime elezioni, è importante ricordare però come sintomo reale della situazione di classe che sia il parto socialista che il parto comunista hanno sentito allora il bisogno pubblicamente e anche in circolari interni di fare di durissimi ammonimenti a quelli che chiamavano provocatori e avventurieri che possono agire nel movimento operai nelle stesse fine del partito, questo è il comunicato della direzione comunista, per creare resistenze inconsulte alla continuità della linea dei partiti di sinistra che era la linea pacifica di unità di collaborazione. Solo nel settembre, cioè nell'agosto, comincia a esserci una circolare di longa e di secchia che prende coscienza della gravità della situazione e comincia a dire che bisogna sostenere di più la lotta, però la lotta economica, e in agosto esce anche dal famoso articolo di Togliatti, le lotte del lavoro di esaltazione della lotta bracciantile che cominciava. Nel settembre si ha il Cominform e lo sviluppo delle critiche del Cominform non fu un ritorno alla lotta di classe, ma fu il passaggio dalla collaborazione di classe alla lotta di campo, cioè come la collaborazione di classe fino all'estate del 1947 era rientrata in un quadro internazionale dell'alleanza antifascista internazionale e quindi della necessità dell'Unione Sovietica di avere nei paesi un determinato tipo di rapporto interno, così la rottura delle alleanze internazionali non portò nei singoli paesi a una linea di autonomia di classe, ma portò alla linea di classe interpretata come linea di lotta per la pace, è vero, cioè sostegno a tutti coloro che accettano il campo sovietico come campo determinante della lotta per la pace. Ecco, Lisa parlava ieri della questione del Cominform, negli atti del Cominform, poi io non li conosco, non sono pubblicati, ma c'è un verbale sommario pubblicato da Evgenio Reale che è di eccezionale interesse, la cosa interessante è questa, che l'unico in cui gli italiani francesi sono stati messi sotto posti a accuse violente, l'unico che ha accusato gli italiani, i francesi, soprattutto gli italiani, di aver abbandonato una linea di classe, cioè di non avere tentato di innestare dei processi rivoluzionari, sia pure nei limiti possibili, è stato Cardelli, è stato il primo che ha toccato, il quale era ben, aveva davanti a sé un vingilongo, aveva ben in mente il fatto che durante la resistenza l'influenza che l'esperienza di Jugoslava aveva avuto su tutta la sinistra resistenziale italiana, il modello Jugoslavo aveva rappresentato per noi una delle alternative, e nel Partito Comunista era stata fortissima l'influenza, è vero, del modello Jugoslavo come rivoluzione popolare dal basso, dove Cardelli parlava così, ma tutti gli altri, perfino Gilas, che parlò dopo Cardelli, è vero, il donno successivo, l'attacco che fecero non era di non aver saputo fare la lotta di classe, ma di non avere saputo resistere efficacemente all'America, cioè di non avere saputo efficacemente resistere in un fronte, in un fronte. Ecco, io direi che, per cui poi si passò, come ho ricordato, alla lotta di classe interpretata come lotta per la pace, non quindi uno sviluppo, a una prospettiva strategica socialista da costruire anche in tempi lunghi, sulla base delle lotte di massa, ma le lotte di massa erano viste come elemento funzionale rispetto, ovvero a dirigenze politiche internazionali, si passò e si è persa la fase che poi sarebbe finita nel 1956. Ecco, io qui vorrei soltanto concludere rapidamente ricordando una cosa, che queste cose non hanno delle, cioè l'idea del partito nuovo che venne nel 1946, era un'idea molto importante, bisogna vedere un po' da vicino cosa voleva dire, cosa ha significato il partito comunista e poi anche in parte per la socialista in questo contesto. Il partito comunista e il partito nuovo significano molte cose che sono anche ovvie, il passaggio dalla clandestinità alla democrazia, l'abbandono del settarismo e del dogmatismo, il radicamento della realtà, l'apertura alla comprensione, l'idea del partito, la coscienza che il partito è una componente essenziale di un nuovo sistema politico, in cui il cui limite è quello che ho detto, di non mettere in discussione la stessa istituzionale reale, quando Togliatti giustamente, secondo me, disse, state attenti che la vita non si chiude nel problema repubblica-monarchia che può anche essere risolto domani, è vero, però non pose il problema delle istituzioni sostanziali dello Stato. Il partito nuovo voleva dire anche contenuti, contenuti nuovi, voleva dire unità democratica e voleva dire contenuti di riforme, però tutti esplicitamente e sempre subordinati all'unità democratica. E qui c'è un elemento ideologico che io vorrei richiamare, scusatemi, ma che mi pare molto importante richiamarlo. Cioè, quando si parlava di socialismo del 44, 45, 46, il socialismo di cui si parlava era il socialismo sovietico, quando si parlava di rivoluzione era la rivoluzione di ottobre, quando Togliatti arriva a Napoli, nell'ottobre del 44, nel primo discorso degli operai napoletani, dice in modo esplicito che gli operai non hanno il compito di fare quello che abbiamo fatto in Russia. Cioè, non si poneva un'ipotesi di una rivoluzione diversa, di una strategia dell'Occidente, è vero, per una rivoluzione in tempi diversi, anche con alleanze di classe diverse, si diceva, poiché il socialismo è l'insurrezione sovietica, poiché è impossibile, stiamo nel sistema e cerchiamo di metterci in massimo di democrazia. Nel convegno economico del 45 a Roma, del luglio, agosto, del 31 luglio, questo è estremamente chiaro, ha un compagno che parlava di piani, di introdurre dei piani, per gli altri gli spazi, si è scherzi, egli pensava ai piani chiunqueennali, per gli altri, i piani voleva dire il piano, chiunqueennale diceva, si è scherzi, e loro se l'hanno fatto, l'abbiamo fatto dieci anni dopo la rivoluzione, undici anni dopo il piano chiunqueennale, vuoi farlo subito qui, quando l'altro intendeva evidentemente il problema di introdurre elementi di controllo pubblico, non è vero, nei confronti delle scelte, cioè l'alternativa era rigida, o, cioè, rivoluzione, era paradossalmente la concezione di rivoluzione era una concezione insurrezionale, no? Anche questa è abbastanza strana, se non puoi fare l'insurrezione non hai altro che da stare obbediente al sistema cercando di introdurci quanto più di democrazia, c'è una fase di lungo molto caratteristica, la fase di lungo è questa, e gli dice, noi siamo in una fase, questo è sempre un convegno è stata un'unOs età, e quindi va a arrivare per fare l'insurrezione non ho